Venerdì, al nord pressione in ulteriore aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. Temperature in ulteriore lieve aumento. Sabato, pressione in calo e così arriveranno forti temporali con grandine su Val d'Aosta, Piemonte e parte della Lombardia, sarà più soleggiato sul resto delle regioni. Al centro, aumento della pressione. La giornata risulterà così ampiamente soleggiata dal mattino fino a sera su tutte le regioni. Venti settentrionali, temperature in aumento. Sabato, alta pressione prevalente per cui la giornata trascorrerà con un cielo a tratti nuvoloso su gran parte delle regioni. Temperature massime fino a 36 gradi. Venti da sud. Al sud, nuova rimonta dell'alta pressione africana. Di conseguenza la giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Lieve aumento termico. Sabato, regime anticiplonico sulle regioni. La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, il cielo si presenterà prevalentemente sereno e farà piuttosto caldo ovunque. Al prossimo episodio